Salve a tutti ragazzi abbiamo avuto in questo nuovo video qui in compagnia di in cucina con puffi oggi ragazzi parleremo di un'altra ricetta facilissima ovvero un secondo piatto di pesce che sarebbe gli spiadini di gamberi e zucchini preparare questa ricetta ci occorrono pochissimi ingredienti tra cui 800 grammi di gamberi 3 zucchine del pan grattato olio extravergine oliva sale e pepe per preparare gli spiadini di gamberi e zucchini la prima cosa da fare è mettere a mollo gli stecchi in acqua fredda poi ovviamente dedicatevi alla pulizia dei gamberi ovvero togliendo la testa il carapaggio la coda e l'indestino poi prendete le zucchine montatele e tagliatele diciamo a fettine di nastre di circa 3 mm una volta che avete fatto questo avvolgete i gamberi in una fetta di zucchine e infilzatevi via via negli stecchini quindi poi metterete gli stecchini poi ovviamente fino a finire gli ingredienti quindi fino a quando volete fino a quando gamberi volete fare poi prendete i gamberi e le zucchine e passatale nel olio extravergine d'oliva e anche nel pan grattato poi prendete una teglia rivestita da carta da forno e salate pepate e ovviamente aggiungete sopra anche un po di olio e cuocete gli stecchini a 200 gradi per circa 10 minuti girando da entrambi i lati una volta che gli stecchini sono pronti ovviamente prima di metterli in un piatto ripassate la grilla per altri due o tre minuti e poi così sono pronti per essere serviti e sfarnati quindi poi sono pronti per essere impiattati quindi ragazzi come vedete questa ricetta è facilissima fatemi sapere cosa ne pensate sempre nei commenti lasciate un bel mi piace e continuate a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina per non perdere gli altri video e quindi ragazzi poi fatemi sapere cosa ne pensate di questo delizioso secondo piatto a base di pesce e quindi noi per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video qui in cucina con puffy ciao voglio